Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi parleremo dell'edizione attuale del Grande Fratello, in cui l'eliminazione di Samira lui ha scosso i concorrenti e scatenato una serie di reazioni. Anita Olivieri è scoppiata in un pianto inconsolabile e ha espresso la sua frustrazione nei confronti del pubblico che, secondo lei, salva costantemente Beatrice Luzzi. Esamineremo il suo sfogo e le dinamiche di questo reality. L'uscita di Samira lui dal Grande Fratello ha lasciato quasi tutti i concorrenti scioccati e dispiaciuti. Tra di loro, Anita Olivieri è stata particolarmente colpita dall'eliminazione di Samira. La sua reazione è stata un pianto inconsolabile. Ma non si è limitata a manifestare la sua tristezza. Anita ha rivolto le sue parole di critica al pubblico, colpevolizzandolo per aver sempre salvato Beatrice Luzzi. Anita ha espresso il suo disappunto, dichiarando. Tutto perché loro vedono un pezzo di Samira. Che ha fatto tutto qui dentro. E la Beatrice. La regina di cuori. La sua delusione è palpabile. E sembra che la concorrente non riesca a comprendere il meccanismo del televoto e l'autonomia delle scelte del pubblico. Nei confronti di Beatrice. Anita ha fatto un paragone interessante. Paragonandola alla regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel suo sfogo. Ha espresso l'idea che i concorrenti siano solo pedine nelle mani di Beatrice. Che. Secondo lei. Ha il potere di influenzare le dinamiche del gioco a suo vantaggio. GF. Anita contro il pubblico. L'emozionante sfogo di Anita Olivieri. Pubblico vs. Concorrenti. La polemica. Il potere del televoto. Spiegazione dinamiche nel grande fratello. Chi comanda? Prima di concludere questo video. Vi invitiamo a commentare e a condividere le vostre opinioni sulla situazione al grande fratello. Cosa ne pensate delle reazioni di Anita e della dinamica del televoto? Cosa ne pensate delle reazioni di Anita? Cosa ne pensate delle reazioni di Anita? Grazie a tutti.